Chi ve l'ha detto che 180 è il ritmo ottimale? Non lo è. 180 è semplicemente il limite estremo, ci avviciniamo al limite estremo del range funzionale, ma non è il ritmo a cui aspirare, non è il ritmo a cui correre se volete correre meglio, ma è uno dei numeri che sta all'interno di un range all'interno del quale c'è la stessa funzionalità. Dipende poi dal contesto, quindi dal terreno, dal tipo di corridore, dal tipo di scarpa, dalla stanchezza, dal tipo di gara, dal tipo di allenamento e in base a quello, al tipo della mobilità articolare, di piede, di attivazione muscolare, di elasticità, in base a quello poi ovviamente si può andare a, a seconda della persona, a trovare quello che può essere un ritmo ottimale, ma non c'è un ritmo ottimale, il ritmo è ottimale in base al contesto, quindi potenzialmente nello stesso allenamento, se corre...